Buonasera a tutti. Buonasera. Nel corso delle settimane scorse ho svolto anche con la collaborazione dei Presidenti delle Camere, che ringrazio molto, una verifica concreta, attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni. In un Parlamento contrassegnato, come è noto, da tre schieramenti principali, nessuno dei quali dispone della maggioranza. Condizione questa che richiede necessariamente che due di essi trovino un'intesa per governare. Non è riuscito il tentativo di dar vita a una maggioranza tra il centro-destra e il Movimento 5 Stelle. Non ha avuto esito la proposta del Movimento 5 Stelle di formare una maggioranza con la sola Lega. Si è rivelata impraticabile una maggioranza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. E' stata sempre affermata da entrambe le parti l'impossibilità di un'intesa tra il centro-destra e il Partito Democratico. Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina. Nel corso dei colloqui di oggi ho chiesto alle varie forze politiche, particolarmente a quelle più consistenti, se vi fossero nuove possibilità d'intesa, se ne fossero emerse, registrando che non ve ne sono. Come è evidente, non vi è alcuna possibilità di formare un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico. Sin dall'inizio delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo politico di minoranza. Era stata questa mattina una richiesta in tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza condurrebbe alle elezioni e ritengo in queste condizioni che sia più rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni sia un governo non di parte. In ogni caso, il governo presieduto dall'onorevole Gentiloni, che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta ulteriormente svolgendo in questa situazione anomala con le forti limitazioni di un governo dimissionario, ha esaurito la sua funzione e non può ulteriormente essere prorogato. In quanto è espresso nel Parlamento precedente, dopo una maggioranza parlamentare che non c'è più. Quali che siano le decisioni che assumeranno i partiti, è quindi doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere oltre. Continuo ad ospicare, naturalmente, un governo con pienezza di funzioni, che possa amministrare il nostro Paese, senza i limiti operativi di un governo dimissionario, che metta in condizione il Parlamento di esolgere appieno la sua attività, che abbia titolo pieno per rappresentare l'Italia nelle imminenti e importanti scadenze nell'Unione Europea, dove a giugno si assumeranno decisioni che riguardano gli immigrati, il bilancio dei prossimi sette anni, la moneta comune. Dai partiti, fino a pochi giorni addietro, è venuta più volte la richiesta di tempo per raggiungere intese. Può essere utile che si prendano ancora del tempo per approfondire il confronto fra di essi e per far maturare, se possibile, un'intesa politica per formare una maggioranza di governo. Ma nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, attraverso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale, di servizio. Un governo neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si dimetterebbe con immediatezza per lasciar campo libero a un governo politico, laddove invece tra i partiti, in Parlamento, non si raggiungesse alcuna intesa, quel governo neutrale dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre, approvata la manovra finanziaria, per andare subito dopo a nuove elezioni. Un governo di garanzia. Appunto per questo chiederò ai suoi componenti l'impegno a non candidarsi alle elezioni. L'ipotesi alternativa è quella di indire nuove elezioni subito, appena possibile, gestite dal nuovo governo. Non vi sono i tempi per un voto entro giugno. Sarebbe possibile esoggerle in piena estate. Ma sinora si è sempre evitato di farlo, perché questo renderebbe difficile l'esercizio del voto agli elettori. Si potrebbe quindi fissarle per l'inizio di autunno. Rispetto a quest'ultima ipotesi, a me compete far presente alcune preoccupazioni. Che non vi sia, dopo il voto, il tempo per elaborare e approvare la manovra finanziaria e il bilancio dello Stato per il prossimo anno, con il conseguente inevitabile aumento dell'IVA e con gli effetti recessivi che l'aumento di questa tassa provocherebbe. Va considerato anche il rischio ulteriore di esporre la nostra situazione economica a manovre e offensive della speculazione finanziaria sui mercati internazionali. Viene oltre il timore che a legge elettorale invariata in Parlamento si riproduca la stessa condizione attuale, o non dissimile da questa, con tre schieramenti, nessuno dei quali con la necessaria maggioranza. Schieramenti resi probabilmente meno disponibile alla collaborazione da una campagna elettorale rossimilmente aspra e polemica. Va tenuto anche il debito conto il bisogno di tempi minimi per assicurare la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale. Mi auguro che dalle varie forze politiche giunga una risposta positiva, nel senso dell'assunzione di responsabilità, nell'interesse dell'Italia, tutelando in questo modo il voto espresso dai cittadini il 4 di marzo. Laddove questo non avvenisse, il nuovo governo, politicamente neutrale, come ho detto, resterebbe in carica per le elezioni, da assolgere o in piena estate, ovvero in autunno, con i rischi che ho ricordato prima. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che una legislatura si conclude senza neppure essere avviata. La prima volta che il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto. Scelgano i partiti, con il loro libero comportamento nella sede propria, il Parlamento, tra queste soluzioni alternative. Dare pienezza di funzioni a un governo che stia in carica, finché fra di loro non si raggiunga un'intesa per una maggioranza politica, e comunque non oltre la fine dell'anno, oppure nuove elezioni subito, nel mese di luglio, ovvero in autunno. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.